Ciao a tutti gli amici di Opera Life, siamo qui, sono qui da sola nel mio camerino prima di iniziare questa quinta recita di Traviata qui al Teatro dell'Opera di Roma. Saluto tutti e spero che questa nuova associazione che si è creata possa avere lunga vita perché è una bellissima iniziativa e spero che possa portare l'opera a tutti, anche ai più giovani. Qui ci sono gli abiti della Casa di Campagna e del Terzo Atto, qui c'è l'abito rosso Valentino di Casa Flora, ma un saluto a tutti. Ciao, fatemi l'in bocca al lupo!